GF VIP, Soleil Sorge e quella pace che ti aspetti, ecco con chi è stata fotografata. Pace fatta tra Soleil Sorge e Iconizze. I due, negli scorsi anni sono stati legati da un profondo rapporto di omicizia. Ma come molti ricorderanno nell'ultimo periodo il loro legame si era spezzato a causa di alcune rivelazioni dell'ex Jeffina sull'influencer. Nel 2021 Marco Ferrero era stato ospite di Barbara D'Urso per raccontare di un'aggressione omofoba, che però non si sarebbe mai verificata realmente. La Sorge, infatti, aveva smascherato l'ex amico rivelando che quest'ultimo aveva inscenato l'aggressione colpendosi con una busta di surgelati sul volto. A distanza di alcuni mesi da quella denuncia, e mentre Soleil si trovava nella casa del GF VIP 6, Marco aveva svelato tramite i social che ad architettare il piano della finta aggressione era stata proprio la Sorge. Spiegando di avere anche le prove di ciò, a tal proposito si era anche vociferato di impossibile incontro tra i due in diretta TV per chiarire definitivamente la questione dell'aggressione e delle relative colpe. Incontro che però non si è mai verificato, almeno in pubblico. Sembra infatti che in questi ultimi mesi Soleil e Marco abbiano avuto modo di chiarirsi in privato e di riallacciare i rapporti e proprio in virtù di ciò nelle scorse ore Iconize ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'immagine che lo ritrae in compagnia di Soleil, corredato dalla scritta Pizzelluf. Uno scatto che ha lasciato il popolo del web senza parole, dal momento che tra i due erano volate parole grosse e le accuse che la Sorge aveva lanciato all'amico erano state piuttosto pesanti. Pertanto nessuno si sarebbe mai aspettato che i due potessero tornare ad avere un rapporto di amicizia.